veniamo da un campionato diverso con l'A5 quindi era 11 ma abbiamo trasformato questa squadra in A5 ci siamo trovati male nelle prime partite ma quando abbiamo cominciato a capire i schemi e le tattiche di questo sport di questo calcetto ci siamo portati a livelli buoni fino a combattercela con le prime il rammarico di questo campionato è che siamo partiti troppo tardi e quindi ci mancano dei punti che logicamente da squadra inesperta e appena nata alla fine quando fai il totale non ti ritrovi i punti puntiamo tutto nella coppa ci stiamo allenando bene è un gruppo di 30 ragazzi tutti con sempre esperienza a 11 ci servirebbe magari qualche elemento che già ha fatto queste categorie e insomma eccoci qua e andiamo avanti per la coppa abbiamo avuto dei buoni avversari sia il delle vittorie il Cures l'Atletico 2000 insomma belle squadre organizzate che si stimigliano che si vedeva da anni che giocano in questi campionati e hanno messo su di noi l'esperienza più che altro quindi abbiamo pagato il lì abbiamo un tifo molto molto insomma caloroso infatti ci dicono magari qualcuno che siamo un po' troppo noi saltati ma c'è troppo calore quindi magari si scarica chi viene qui ci domanda sempre ma come mai ci avete tutti questi tifosi e ce l'abbiamo perché nasce tutto da un gruppo da un bar da un paese che insomma da tanto allo sport e vorrebbe ricevere tanto e stiamo con le basi giuste quindi ringraziamo la radio e tutto grazie grazie grazie